Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi un piccolo se non piccolissimo esperimento però in questa stagione ho deciso che voglio cercare di riproporre questo tipo di format che mi piace tanto e quando c'è la possibilità di parlare di tattiche di quello che è stata una determinata partita, una determinata situazione eccetera eccetera ho deciso che non ci tireremo indietro e andremo anche contro il mercato perché in questo momento Calulu sta svolgendo le viste mediche con l'eventus è arrivato a Torino quindi sarà un giocatore dell'eventus nel caso in cui passerà le viste mediche, spero che non ci siano problemi da questo punto di vista, sappiamo che ci sono anche altre trattative che devono essere concluse con Mainers, si è parlato di Nico Gonzalez, si è parlato di tantissimi calciatori, ne parliamo magari oggi in live insieme dato che ieri non siamo riusciti perché ero tutti in the box mentre oggi invece sono libero quindi ci vediamo nel pomeriggio. Però l'analisi tattica andava fatta di questa partita che secondo me, spero di non esagerare, è la miglior partita della Juventus degli ultimi anni, non significa che la Juventus vincerà tutto dopo questa cosa qui assolutamente no però ci sono stati davvero tanti argomenti positivi di cui parlare e che non riusciremo nemmeno a trattare tutti perché non riusciremo a trattare per esempio i passaggi di prima, il ritmo, l'intensità queste sono cose che difficilmente riesco a racchiudervi all'interno di un'analisi tattica, a spiegarvi con una schermata o semplicemente con una statistica ma quelle cose ci sono state, andremo a vedere soprattutto gli interscambi e come Tiago Motta ha ragionato in funzione dei calciatori che aveva a disposizione questa è una cosa molto importante, molto interessante secondo me ed è per questo che vi chiedo il supporto che merita anche un lavoro di un certo tipo perché ci ho messo quasi tre ore a completare la slide che state per vedere e che spero possa piacervi quindi mi piace, un'iscrizione ma soprattutto un commento perché voglio sapere la vostra opinione se siete pronti iniziamo con questa prima analisi tattica 2024-2025 in seguito a una partita giocata e vinta super meritatamente Juventus Como 3-0 Partiamo dalla formazione perché secondo me è utile discutere anche questo Io ero allo stadio, mentre stavo mangiando a cena, arriva la notifica della formazione e dico wow, fermiamoci un secondo, non gioca Douglas Lewis, il giocatore più costoso della campagna acquisti Juventus in essere gioca Bangula al suo posto, gatti il capitano e non più Locatelli come è stato per tutte le amichevoli quest'estate Che cosa sta succedendo? Che cosa ha in mente Tiago Motta? Ecco di questo abbiamo già parlato anche nelle pagelle, io l'ho fatto un intervento anche a Tutti in the Box che è stata la mia ringa Ma questa è la Juventus della meritocrazia Tiago Motta in conferenza stampa ti dice Bangula gioca perché se lo merita Gatti e capitano perché se lo merita Tiago Motta non ha interesse nel guardare uno status Nel guardare la carriera di un calciatore Non ti va a vedere il numero di presenze che mi hai fatto in Champions League, nella Nazionale, in Serie A O quante volte hai fatto gol o quante volte sei stato determinante Guarda come ti sei allenato Guarda la tua condizione fisica E guarda quanto può essere utile un determinato tipo di giocatore con le sue caratteristiche Per andare ad affrontare una determinata squadra Queste sono le linee guida E dobbiamo iniziare ad assorbirle, a farle nostre Perché non dovremo più stupirci in una formazione, in un 11 titolare Che lascia fuori dei giocatori costosi o dei giocatori di primissimo livello Per far giocare dei giocatori che magari fino a quel momento non avevano ancora dato niente alla Juventus Ma in allenamento invece all'allenatore avevano dato tanto Cioè non tantissimo Come l'esempio di Samu Bangula Che è il giocatore che va a sbloccare E' il primo gol stagionale della Juventus E' il primo gol della Juventus di Tiago Motta Questa è la formazione Di base a un solito 4-1-4-1 Ma avremo delle novità Perché noi abbiamo già analizzato il 4-1-4-1 della Juventus Durante queste amichevoli estive avevamo già visto due tipologie di sviluppo Quindi quella 3-2 con Cambiaso che entra dentro il campo E quella in cui i terzini, Cambiaso e Danilo vanno ad aiutare Turam Con i centrali che si allargano E di Gregorio che diventa il primo play di costruzione dal basso della Juventus Ecco, siamo partiti da una di queste tipologie Ma poi abbiamo sviluppato in una maniera differente E sono contento di essere riuscito a sviscerare la partita E a portarvi una decina 8-9 immagini Che secondo me sono molto interessanti Per cercare di capire e comprendere Come la Juventus di Tiago Motta è riuscita a fare questa partita Sì, con il Como Certo, va sempre evidenziato Va sempre sottolineato Ma quante volte negli anni Non solo la Juve Ma tutte le squadre Fanno delle partite con delle squadre che sono solo quella squadra E non le fanno bene E a volte il risultato non è nemmeno così importante A volte si può perdere anche contro una squadra minore Quindi non è determinante Non è importante pensare È solo il Como È importante il determinante Vedere che la Juventus certe cose le ha fatte Le sa fare E le può riproporre E la cosa veramente importante Siccome è da evidenziare Non è è solo il Como Ma per quante altre volte la Juventus Se riuscirà a replicare questo tipo di prestazioni Di risultato Questa è la vera domanda da farsi Non importa se è solo quella squadra A volte contro determinate squadre piccole Lasci per strada Dei punti E fai delle prestazioni Dove magari vinci Ma non sei convincente E tante volte magari per un episodio Per una giocata di un singolo in particolare Che è più forte di quegli altri Quindi queste sono cose che Dobbiamo lasciare un po' in secondo piano Dobbiamo cercare di essere equilibrati Certo Dobbiamo anche essere contenti Per quello che la Juventus Ha dimostrato di saper fare La domanda vera è Quanto riuscirà a replicarla E quanto riuscirà a replicarla Anche contro squadre più forti Questa è la vera domanda La fase di non possesso Partiamo da qua perché Ne sembrerà una cosa un po' più facile Già al secondo 35 Della partita La Juventus ha dimostrato Di difendere in maniera ordinata Ma soprattutto bassa 4-2-3-1 Quando parliamo della Juventus Quel 4-2-3-1 Di Tiago Motta La possiamo evidenziare Solo e soltanto In fase di non possesso Stop Perché in fase di costruzione Di possesso Di sviluppo La Juventus di Tiago Motta Non è un 4-2-3-1 Come lo vediamo nelle grafiche E sono contento Che anche il critico Non so se starà guardando Questo video Nel caso un salutone a Luca Si è unito anche lui All'interno di questa battaglia Glielo scritto All'interno di un video In cui parlava proprio Di questa cosa qui Il 4-2-3-1 Per la Juve di Tiago Motta Esiste solo Nelle grafiche O al limite In fase di non possesso Tiago Motta Anche col Bologna Difendeva molto basso Non si vergognava Di questa cosa E ovviamente Più difendi basso E più era possibilità Di ripartire E la gestione degli spazi Per la Juventus È importante E determinante Come vedremo anche Nelle prossime slide Perché durante la costruzione Dal basso La Juve di Tiago Motta È ripartita esattamente Da dove l'avevamo lasciata E quindi con Cambiaso Che diventa il giocatore chiave Lo vedete È il giocatore alla destra Di Kefren Turam È tra Kefren Turam E UEA I due giocatori che tra l'altro Sono risultati infortunati Dopo la partita Sono sicuramente Delle perdite importanti Per la Juve di Tiago Motta Secondo me Più di tutti Kefren Turam Che mi sembra un po' Il giocatore insostituibile All'interno di questo sistema Di gioco E vedremo come la Juventus Riuscirà a colmare La sua assenza Ma come vedete La linea rossa Composta dai tre giocatori Gatti sul centro-destra Cabal sul centro-sinistra E Bremer al centro Va a formare davvero Una sorta di difesa 3 Con UEA Che va ad allargarsi A garantire l'ampiezza Dall'altra parte Abbiamo Bangoulat Che non stiamo vedendo E Cambiaso Che diventa effettivamente Il mediano Al fianco di Kefren Turam Con Locatelli Che invece è molto alto Quasi insieme a Ildis Alle spalle di Vlaovic La Juventus sviluppa Con un 3-2-5 O se vogliamo essere Ancora più precisi Con un 3-2-4-1 Dove Vlaovic è lasciato Da solo lì davanti E dove ci sono Due trequartisti E due esterni Con Cambiaso e Turam In cabina di regia Sfruttare l'ampiezza Questa è la parola chiave Questo è il concetto chiave Della Juventus di Acomotta Perché in questa slide Vediamo una cosa Molto importante In realtà ne vediamo due Tre Perché UEA e Bangoulat Sono larghi Questa è la cosa più importante Vediamo cerchiati in rosso Molto larghi La seconda Che qui abbiamo pure Ildis Che è un giocatore Che apprezza Partire largo da sinistra Per poi accentrarsi E quindi abbiamo addirittura Un raddoppio Sulla corsia di sinistra Ma la cosa più importante È Cambiaso Perché Cambiaso Sulla carta Sulla graficina Che mettiamo Inizio gara Il 4-2-3-1 Nella grafica Che parlavamo prima È il terzino destro Quante volte abbiamo detto Che quando un terzino Stringe Riesce a garantire L'ampiezza All'esterno di competenza Ormai L'abbiamo detto E ridetto Una miriade di volte L'anno scorso Era un concetto Che riguardava sempre Cambiaso Per cercare Di garantire L'ampiezza chiesa Ve la ricorderete Questa cosa Ecco Guardate Wea Quanta ampiezza ha E cercate di capire Perché Wea Ha la possibilità Di stare così largo Senza Cambiaso In quella posizione lì Che stringe Wea Sarebbe raddoppiato Dal giocatore Sarebbe marcato Dal giocatore Che in questo momento Sta stringendo invece Per il Como Guardate la difesa Del Como a 4 Cosa sta facendo Giustamente Perché Dov'è che prendi gol? Per via centrale Quindi devi cercare Di ostacolare Il giocatore Che sta portando palla Quindi Cambiaso Per via centrali E anche Blaovic Che sta indicando Una linea di passaggio A Cambiaso Che è una linea di passaggio Anche interessante Perché la difesa del Como Non è messa bene Quindi Cambiaso Con un passaggio d'esterno Un filtrante Con i giri giusti Avrebbe potuto Direttamente mettere In porta A Blaovic E probabilmente Sarebbe stata anche La strada più semplice La strada più facile E invece no Perché Cambiaso dice Ho il pallone Sul mio piede forte Che è il sinistro Cambiaso è molto abile In realtà Anche a usare il destro E non sarebbe stato Un problema Andare ad orientare Il passaggio Sulla sinistra Dove c'è il raddoppio Di Ildis Dove ci sono quindi Due giocatori Della Juventus Che potrebbero andare A far male Ma dato che Il corpo di Cambiaso È già orientato Verso il passaggio WeA Invece che Rischiare Un passaggio che Se dosato male Per Vlaovic Perché è più difficile Potrebbe trasformarsi In una palla Recuperata dal portiere O da Vlaovic Che potrebbe Non arrivarci Non stopparla bene Decide di andare Su WeA Decide di garantire L'ampiezza WeA E questo poi Si trasforma In un'occasione Per Vlaovic Per andare ad impattare Il pallone sul cross Di WeA Un'occasione per Cambiaso Per andare a prendere Il rimorchio O per uno dei due giocatori Dall'altra parte Di arrivare Di rincorsa Sul secondo pallone Andare a concludere l'azione Quindi Questo è Importantissimo Bangula E WeA Sono i due giocatori Che Diagomotta Ha scelto Per cercare di allargare Le maglie Della difesa del Como Che qui invece Ha difeso In maniera Molto centrale Quindi garantendo La Juventus La possibilità Di andare sugli esterni In questo caso La Juventus Non è riuscita A convertire in gol Però è molto importante Osservare Intanto la ripartenza Come dicevamo Prima difendi basso E quindi poi ripartire E in seconda battuta Quanto la Juventus Apprezzi andare Ad allargare il gioco Con WeA E Bangula Che hanno praticamente Piantato i piedi Su quella linea laterale Ma soprattutto Con quanti uomini Attacca la Juve La Juve attacca sempre 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 Con un minimo Di cinque uomini A volte Possono essere quattro Perché magari Un giocatore Non ci arriva È un po' stanco Deve ripiegare Ma l'idea Della Juventus Attaccare sempre Con cinque uomini Sempre cinque giocatori Che vanno a riempire L'area di rigore E questa è una cosa Molto Molto importante Perché ovviamente Rischi Di poter fare Più gol In questo modo Qualcuno potrà dire Sì ma poi Sulle ripartenze La Juventus di Agomotta È sempre Molto organizzata Anche con le marcature Preventive E come abbiamo visto Difende anche a blocco basso Quindi i giocatori Dovranno essere Molto scattanti Dal punto di vista atletico E cercare di rincorrere Poi il pallone Nel caso in cui Dovesse nascere Un contropiede Per la squadra avversaria Riaggressione E cambio di campo Questo È il gol Dell'1-0 Abbiamo Locatelli Che sbaglia Perché il giocatore Del Como Gli regala il pallone Praticamente Locatelli Ha la palla Tra i suoi piedi E va Forse a Rifugiarsi Nella soluzione Più facile Una delle cose Che comunque Gli abbiamo sempre Visto fare Anche l'anno scorso Sbagliando Perché Locatelli L'anno scorso Ha sbagliato Tantissime volte Questo tipo di passaggio Ma perché? Perché è più complicato Lui era andato subito A cercare Vlaovic Là in fondo Da solo Lontano È sbagliato È un passaggio Perché è un passaggio Difficile È un passaggio Lontano È un passaggio A un unico giocatore Che in quel momento Stava praticamente Facendo il riferimento Offensivo Con la difesa Del Como Che era Pronta A mangiarselo A marcarlo Infatti Vlaovic Ha toccato pochi palloni In questa gara Ma ha avuto tante occasioni Per fare gol Perché Vlaovic Semplicemente Stava lì Teneva alta La difesa del Como E garantiva La possibilità Alla Juventus Di allargarsi Sempre con Wea E Bangula Destra E sinistra Dopo aver sbagliato Il pallone Locatelli però Che cosa fa? Non corre 10 metri All'indietro Come faceva l'anno scorso A posizionarsi A fianco di Bremer A fare il difensore Centrale aggiunto Locatelli è andato In regressioni in avanti 10 metri in avanti Tiago Motta In conferenza stampa Post partita Dice una cosa importante Questi giocatori Ce l'hanno dentro La regressione in avanti Locatelli ce l'ha dentro La regressione in avanti Io Locatelli Quando indossa la maglia La Juventus Non gli ho mai visto fare 10 metri in avanti In regressione Dopo un suo errore L'ha fatto E questa reaggressione Del pallone Di prima Permette a Wea Di andarsi a prendere L'ampiezza La palla di Locatelli Arriva lì Wea arriva lì Come vi dicevo prima La Juventus Attacca sempre con 5 uomini Se non 6 Perché poi a conclusione Dell'azione Che si trasformerà Nel gol dell'1-0 La Juventus Arriverà con anche Tanti altri effettivi Con del movimento Senza palla E con degli scatti Senza palla Per andare a riempire L'area di rigore Wea che cosa fa? Sa benissimo Che potrebbe andare avanti E portare palla Ma poi andrebbe ad attirarsi Tutti i giocatori del Como Perché stanno già correndo Verso di lui E questa è l'organizzazione Che cosa deve fare la Juventus Una volta recuperata la palla E questa cosa la fa sempre Cambiare lato Andare sul lato più scoperto Perché ovviamente Il Como verrà tirato O qualsiasi squadra Verrà tirato in zona palla Libererà quindi Dall'altra parte del campo La fascia Perché ci sarà la diagonale Anche da parte del difensore Che dovrà andare a coprire Il centro dell'area di rigore Lasciando quindi libera L'altra parte In realtà il passaggio di Wea Non è nemmeno precisissimo Perché il terzino Destro del Como Va anche a intercettarlo Per fortuna nostra La sporca E basta Non riesce a prendere la palla Bangula Riesce ad avere Il possesso del pallone E come vi dicevo Il difensore del Como Sta già stringendo Quindi non ha più La possibilità Di tornare ancora su Bangula E quando lo fai è troppo tardi Perché poi Al di là della tattica E dell'organizzazione di gioco Bangula fa una giocata Fa una giocata meravigliosa E quindi entra dentro il campo Si posiziona praticamente Al centro dell'area di rigore E lascia partire un tiro Che si insacca E crea il gol dell'1-0 Quindi un mix di cose Dalla scelta del giocatore Perché non era scontato Vedere Bangula Titolare al primo minuto Alla costruzione E l'organizzazione del gioco Dettata da Tiago Motta Alla giocata stessa di Bangula Sono tre elementi differenti Che si inseriscono All'interno della stessa azione Che porta la Juve sul 1-0 Senza dimenticare Il cambio campo E la reaggressione Che quelle però Ripeto Sono cose Che vengono dall'allenatore Sono cose che chiede Tiago Motta Al gruppo E Locatelli e We Hanno fatto molto molto bene Le sovrapposizioni Però qui stiamo già parlando Del secondo tempo Perché Quella è L'idea Che aveva Tiago Motta Per battere il Como Nel primo tempo Fa la formazione titolare Per quel motivo lì Poi c'è un problema UEA fa il 2-0 Ma lo fa da zoppo Quindi è costretto ad uscire Si scalda Savona Nemmeno Danilo Si scalda Savona Per tornare un po' Al discorso della meritocrazia Delle idee È un po' particolare Di Tiago Motta Perché noi non possiamo sapere Che cosa visti in allenamento Perché mai Secondo lui Bangula E Savona Meritavano di partire Piuttosto che Danilo Douglas Luiz Che sono dei giocatori Che appartengono Alla nazionale brasiliana Invece gli altri Sono dei giocatori Che non aveva mai giocato In Serie A O con la maglia della Juventus Lo sa l'allenatore Lo vedi in allenamento E fa delle scelte impopolari Forti Ma che pagano Però poi Se fa male UEA C'è l'imprevisto Allora devi cercare Di aggiustarti Cosa succede? Panchina corta Non abbiamo esterni E questo è un dato di fatto Entra Savona Terzino Si alza Cambiaso Che aveva giocato Terzino destro Ma che avevamo visto Andava a fare Il mediano Era il giocatore chiave Di riferimento No? Quindi cosa succede? Che cambiano le caratteristiche Dei calciatori in campo E quindi magari Quello che avevi fatto Nel primo tempo Quindi quel 3 più 2 Che diventava un 3 2 4 1 Magari non era più impattante E allora Cerchiamo di adattarci Alle caratteristiche Dei calciatori Che sono entrati Quindi a Savona Che è un terzino E quindi vuole prendersi L'ampiezza Attenzione Cabal ha fatto Praticamente Il braccetto di sinistra In fase di costruzione Per la Juve In questo caso però Dato che Savona Si prende l'ampiezza Dall'altra parte Non c'è più Cambiaso Che entra dentro Si abbassa Leggermente Locatelli Si mette al fianco Di Turam E la Juventus Inizia a sfruttare Decisamente di più Gli esterni Devo dirvi la verità A me nel secondo tempo È piaciuto più del primo E già il primo Mi era piaciuto tanto Ma nel secondo tempo Complice va bene Il fatto che il Como Probabilmente aveva un po' mollato Questo va bene Fuori da ogni dubbio Anche la Juve È calata dal punto di vista Atletico Però ci sono state Delle soluzioni più importanti Perché Cabal ha giocato Praticamente La terzino Sinistro puro E tante volte È andato in sovrapposizione A Bangula Qui lo potete vedere Bangula E Cabal Che vanno a dialogare Sulla corsia di sinistra Nel primo tempo L'abbiamo visto poche volte Perché Cabal Era quello che stava Un po' più centrale E Bangula Invece è più esterno Qui si inverta la posizione Per un motivo C'è la possibilità Di andare in sovrapposizione Quindi attaccare addirittura Con due esterni Piuttosto che solo uno Come abbiamo fatto nel primo tempo E questa cosa Ha messo un po' in difficoltà Il Como Che ormai aveva forse Preso anche le misure Su un altro tipo di approccio Della Juve Che era più stanco Che era sconsolato Perché era 2-0 La prima in Serie A Dopo 50 anni Però la Juve Sicuramente ha dato Il filo alla torcia A Como Perché ha cambiato L'impostazione E a tratti A tratti Con questa nuova tipologia E con questo Nuova Questo nuovo Adattarsi alle caratteristiche Dei calciatori La Juventus Sembrava giocare Con il 4-2-4 Perché Cambiaso Tante volte Si continuava A entrare dentro il campo E andava a formare Una sorta di centrocampo A tre Insieme a Locatelli A Turan Perché Locatelli Aveva abbassato Il suo raggio d'azione Però come potete vedere Locatelli e Turan Sembravano veramente Due mediani Due centrocampisti E basta Nel centrocampo a due E guardate Le linee rosse Che vi ho fatto Perché sono Cabale Bangula E Savone E Savone e Cambiaso Cioè guardate Ildiz e Vlaovic Quanto sono vicini Tra di loro Come se fossero Davvero due punte Guardate Locatelli e Turan Quanto sono vicini Tra di loro Che sembrano davvero Due mediani E guardate Quanto sono Sempre Larghi Tutti e quattro Gli esterni La Juventus Sugli esterni Secondo me Ha vinto questa partita Con l'ampiezza Ha vinto questa partita Ma per farlo C'è stata necessità Di una grandissima prestazione Di Turan Una grandissima prestazione Di Locatelli Per me Turan è stato Il secondo migliore In campo Forse terzo migliore In campo Perché Bangula Lo voglio premiare Un po' di più Dopo ne parleremo Tra poco Ma c'è stato Un giocatore su tutti Che secondo me Ha dominato La partita Di cui ancora Non abbiamo parlato Abbastanza Però la Juventus Con l'ingresso di Savona E l'uscita di Guea È andata ad adattarsi Perché Savona Vuole prendere l'ampiezza Cambiaso Tante volte la prende Ma tante volte Stringe E Cavale e Bangula In questo modo Avevano la libertà Di andare A fare le loro Scorribande A sinistra Dove spesso Volentieri Si aggiungeva pure Hildiz Come abbiamo visto prima Perché è un giocatore Che ama partire largo Questi sono i dati Della Lega Serie A Le statistiche Le ho viste oggi Stamattina Per la prima volta Perché ero talmente Tanto concentrato Sulla partita Che invece Mi sono rivisto Per due volte Uno allo stadio Poi me la sono iniziata Quando sono tornato In hotella a Torino Ma non l'ho finita Perché mi sono addormentato E stamattina Me la sono rivista A larghi tratti Per portarvi queste immagini E andare a prendere Queste schermate Invece è la prima volta Che guardo le statistiche E io ho fatto Sette occasioni da gol Ben 484 palloni Toccati Quindi anzi Passaggi riusciti Ma la cosa più assurda Ragazzi È il 92% Di precisione Dei passaggi Cioè quante volte Ci siano detti Bisogna migliorare Tecnicamente Dal punto di vista tecnico Il passaggio Andava fatta meglio La Juventus Era sempre organizzata Locatelli era fondamentale Da questo punto di vista Perché andava sempre A dare lo scarico E quando hai un giocatore Che ti viene sempre vicino Ad aiutare A prendere il pallone Diventa più facile Hai una linea di passaggio In più E ce l'hai sicuramente Più pulita Più comoda Poi Locatelli Tornava indietro Non era il regista Della Juve Così come non era Turan Poi ci arriviamo A quello che è stato Il regista della Juventus Insieme a Cambiaso Però la Juventus Ha fatto tanti passaggi Tanti precisi E uno potrà dirmi Sì vabbè Ma magari Li ha giocati Sempre dietro Perché come potete vedere I palloni giocati Bremer Gatti Cambiaso Cabal Sono i quattro difensori La Juventus Ha giocato principalmente Nella propria metà campo Quindi nella parte difensiva Del campo E quindi magari La palla non è stata giocata In maniera efficace Invece no Perché dei 484 passaggi Ben 177 Che non è la metà Ma quasi Sono stati giocati in avanti Quindi sì La Juve Gioca prettamente Nella metà campo difensiva Come faceva il buonio Di Tagomotta Perché? Perché cerca di stanare Gli avversari È una squadra che vuole Sempre partire da dietro E quindi cerca Di avere la pressione Degli avversari Per poi Liberarsi E andare in contropiede Riesce a crearsi Dei contropiedi Giocando la palla Nella metà campo difensiva Questa è l'idea Di Tagomotta Ma tante volte La Juve gioca la palla in avanti La sfera non viene Quasi mai buttata via La sfera non viene Quasi mai Sparata alta Su Vlaovic Direttamente Anzi Ripeto Spesso e volentieri Vlaovic Non partecipava Nemmeno alla manovra Era un giocatore Che si disinteressava Completamente Per cercare di andare A finalizzare Tanta sfortuna Per Vlaovic Perché due pali Un fuorigioco Non suo Gli hanno negato Almeno un gol All'esordio Però secondo me Su Vlaovic Bisogna fare un lavoro Un po' più di testa Io l'ho visto anche Tanto Come posso dire Attratto Dalla possibilità Di fare gol Vi faccio un esempio Negli ultimi sei minuti Di recupero Per quattro minuti La Juventus Si è girata la palla In difesa Col como Che nemmeno pressava più Non aveva interesse C'era Vlaovic Che continuava a fare la lotta Con l'ultimo difensore Del como E continuava a chiamarla Palla lunga Un bel lancio lungo Bremer tutte le volte Guardava avanti E non aveva la minima Intenzione di farlo E continuava il giro palla Fino a che il como Non si è deciso Di provare Timidamente Ad andare in pressione E uscire sulla Juventus Ecco In quel momento Il diz Ha avuto La possibilità Di imbucare Vlaovic Con una palla bassa Invece che la palla lunga Andare a lottare Che è complicata Per l'attaccante È dato un bel pallone Filtrante Rasoterra E Vlaovic Quel tiro Che mi sbaglia Alla fine Che becca Reina Che fa la parata Anche così Dove Vlaovic La carica Aspetta tirare Quella È esattamente La descrizione Del perché Oggi Vlaovic Deve ritrovare Se stesso Alla punto di vista mentale Perché la frustrazione Di aver sbagliato Tanti gol E la voglia Di farlo Quel gol Gli è stato Un po' d'ostacolo Perché Vlaovic Quel gol lo fa sempre Se vuole Vlaovic Dal punto di vista Della realizzazione Secondo me Non può essere messo In dubbio Ci sono tante cose Invece Dove può migliorare Caratterialmente E nella pulizia tecnica Questo indubbiamente Ma quelle cose Di Vlaovic Non me le può sbagliare Nasce tutto dalla testa Quindi lui deve Semplicemente fare I primi due Tre Quattro gol E poi sono convinto Che andrà molto Molto bene Però La Juve Ha avuto anche Delle ottime statistiche E queste statistiche Spiegano veramente La volontà della Juventus Di partire sempre dietro Non buttarvi al pallone E arrivarci in maniera organizzata Io però vi devo dire Che il giocatore Che ho preferito in assoluto È Kenan Ildis Nelle pagelle Ildis è il secondo Migliore in campo In campo Perché Tiago Motta Gli ha dato 8 Poi andatevi a vedere Le pagelle Ma il voto Secondo me Conta poco In questa partita A Bangula Ha voluto dare 8 Per la storia Il gol L'esordio Il fatto che nessuno Se lo poteva aspettare Eccetera Eccetera Però per me Ildis è stato Il migliore in campo E dietro di lui C'è stato Turan Perché sono stati Due giocatori Secondo me Più fondamentali Per la Juventus Cambiaso Ildis Sono stati I due I due Registi Di questa Juve 49 tocchi Toccato la palla Tanto comunque Per essere un giocatore Che orbitava Nell'ultimo metro Di campo 34 passaggi riusciti Su 35 97% Di precisione Di passaggi 8 contrasti a terra Di cui 6 vinti Perché Ildis Non aveva mica problemi Tante volte Tornava dietro Anche di corsa Andava a fare una fase Di non possesso importante Andava a sporcare L'ultimo passaggio Del Como Che quindi Si complicava Carambolava E diventava Preda facile Per Di Gregorio Per i difensori E' un giocatore Che ha speso tanto Anche in fase Di non possesso 3 falli subiti Perché E' stato un giocatore Che non riuscivano a prendere Tante volte puntava Andava via In velocità Lo buttavano giù Dovevano fermarlo Anche con le cattive Si è guadagnato Una posizione interessante Da buona posizione Dove Vlaovic ha tirato Ed è uscita di poco Purtroppo Forse anche parata Da Pepe Reine Non segnalata 7 palle lunghe Giocate Di cui 6 completate Perché comunque Tante volte Tendeva anche ad abbassarsi Per cercare di dare Circolazione Del pallone E quindi Giocava la palla in avanti Giocato 90 minuti Quindi tutta la partita E questi sono i dati Che ho preso Alla sua fast score Per descrivere Quello che secondo me È stato il migliore in campo Ildis ha giocato Da numero 10 Nella prima partita In cui ha indossato Il numero 10 Ed è stata Secondo me Una prestazione Di altissimo livello Nonostante il gol Che non c'è stato Tirato un porta Un paio di volte Una anche Buttandola lì Così Siccome ti ha comodato In conferenza stampa Quando ha detto Mi è piaciuto tutto Trano una giocata Intendeva quello Sul palo di Vlaovic Il primo Ildis poteva comunque Tirare in porta Ha giocato da 10 Ecco Se c'è una piccolissima critica Che posso fare Un giocatore che amo E che secondo me è fortissimo E che deve cercare Con più insistenza al gol Perché secondo me Lui di gol Nelle gambe Ne ha E anche tanti E quindi ragazzi Queste erano Le mie considerazioni Tante Perché 30 minuti di video Cavolo Non pensavo Di arrivare fino a questo punto Ma Di avvicinarmi Scusate Se sono ancora qui Che sto facendo delle chiacchiere Ma ormai siamo sul finale Quello che volevo dire L'ho detto E quindi Se rimanete Per il caffè La massa del caffè Mi fa solo che piacere Però Era un contenuto Che volevo portarvi Tante considerazioni Che allo stadio Avevo visto E che in partita Poi rivista Su Dazon Sono state confermate State confermate Perché effettivamente La Juve Queste cose Le ha provate Le sono riuscite E la sensazione Di aver voglia Di rivedere la partita Dopo il termine È qualcosa di meraviglioso E spero che questi 30 minuti Non siano stati troppo pesanti Ma che siano passati Nel migliore dei modi E che ci siano state Anche delle riflessioni Che magari Non avete visto voi O ci saranno delle cose Che magari non ho visto io E che troverò nei commenti Ragazzi Questa volta vi lascio Ci vediamo oggi pomeriggio Con la diretta In cui parleremo di mercato Perché il mercato è ancora aperto E Tiago Motta Ha necessità Di avere la rosa al completo Perché sicuramente Con tutti i giocatori Che dovranno ancora arrivare Di cui si sta vociferando Dovessero arrivare Neanche solo due o tre Di quelli che Si stanno chiacchierando Beh Abbiamo la possibilità Di divertirci tanto Durante questa stagione E poi Dove arriveremo a fine anno Lo vedremo soltanto In questo percorso Che secondo me sarà Un percorso molto positivo Ciao a tutti